Eccoci qua, bene, torniamo dall'università al mondo del lavoro che non deve essere più così scollegato. Presidente, comincerei nel leggerle un comunicato che io faccio parte del direttivo di Federmeccanica e ho ricevuto l'altro ieri un comunicato che dice le organizzazioni sindacali hanno dichiarato la propria indisponibilità a raggiungere un'intesa su tali basi ed hanno affermato che il contratto nazionale deve continuare a difendere il potere d'acquisto dei salari e deve essere fonte di riconoscimenti economici per tutti i lavoratori della categoria. Io trovo in questo momento, non perché sia di parte del direttivo di Federmeccanica, ma che sia uno degli elementi più interessanti sul panorama della contrattazione. Federmeccanica dice che le relazioni industriali, che cosa sono? Sono le relazioni sindacali, ma anche le relazioni con la persona, per cui la persona, il lavoratore, deve tornare al centro e con questo cercando di portare avanti una discussione con le controparti sindacali un po' diversa rispetto ai rinnovi degli ultimi anni. Mi dica cosa ne pensa. La piattaforma di Federmeccanica è l'unico elemento di novità in un quadro di relazioni industriali opache e spesso collusive che si sono prodotte nel corso di una lunga stagione e soprattutto di relazioni industriali lontane dai bisogni del lavoro e dell'impresa in un tempo che è enfaticamente chiamiamo della quarta rivoluzione industriale, della seconda rivoluzione delle macchine, in una sorta di tornante della storia a cui spesso è corrisposto nelle relazioni industriali molto opportunismo, sia da parte di coloro che gestiscono la rappresentanza collettiva, prima con alcuni di voi chiacchierando all'esterno dicevo quante volte mi danno la sensazione di essere preoccupati di difendere gli altri dall'impresa piuttosto che l'impresa dagli altri, perché si fa prima, non perché ci sia una ideologia alla base di questi comportamenti nella rappresentanza collettiva e nel sindacato c'è da un lato il limite dell'effettiva base sociale, cioè di un sindacato che come sappiamo è fortemente minoritario ed è attestato su alcuni segmenti del mercato del lavoro, anche del loro specifico ambito di categoria e che non riesce ad avere un progetto di allargamento della sua capacità di rappresentanza ai più giovani tipicamente ma non solo a loro, alle imprese di minore dimensione, al tessuto più innovativo, questo ha determinato relazioni industriali tendenzialmente opache e anche rinnovi contrattuali che personalmente non ho apprezzato e che non si apprezzano anche dal punto di vista macroeconomico perché se Federmeccanica riuscisse a realizzare il suo progetto la massa salariale crescerà molto di più di quanto non sia cresciuta quella di settori che hanno rinnovato il contratto secondo il modulo vecchio, cioè secondo quei modesti aumenti uguali per tutti che oltre a tutto hanno sottratto spazio alla dimensione aziendale che in ogni caso hanno determinato pigrizia nel governo dei rapporti di lavoro. Io credo che invece se Federmeccanica riuscirà come io sono convinto può riuscire per il lavoro egregio che è stato condotto perché lì ci sono stati attori della rappresentanza che si sono posti il problema di difendere le imprese e il lavoro da coloro che non hanno questa capacità. Io condivido la piattaforma di Federmeccanica dalla prima all'ultima riga e se avessi qualche suggerimento lo darei perché si facesse ancora di più qualcosa in quella direzione. Mi riferisco a tante cose della piattaforma, mi riferisco non soltanto a questa idea di un contratto nazionale come ombrello per ciò che riguarda i lavoratori come persone e quindi il secondo pilastro collettivo di welfare nella speranza di costruire anche un welfare della persona che tra primo e secondo pilastro abbiano, integrino sanità, previdenza, assistenza, long time care che tendenzialmente questo secondo pilastro diventi universale, che arrivi fino alla tomba, che sia modulabile nel seno di quello complementare e con il primo pilastro. Quindi questo riguarda tutti i lavoratori come il diritto all'apprendimento, il postmoderno articolo 18, il diritto all'apprendimento riguarda tutti i lavoratori e questo ombrello non, come dire, rivaluta, rigenera il contratto nazionale per ciò che esso può e deve dare. Su questo ho visto una sua recente prefazione proprio e in questo caso cito un po' la mia esperienza nel senso che adesso sono in Francia e proprio sul tema della formazione continua, che è un tema che abbiamo toccato questa mattina, fa un pilastro dove è individuale e per cui anche l'individuo ha un monte che può spendere e decidere, per cui in qualche modo, anche se poi ci sono altre rigidità di sistema, il sistema francese va in questa direzione più aziendale con un contratto che tutela la parte più generale e anche su questo ho visto che lei si sta molto interessando. Mi faccio fare una considerazione più generale, quelle definizioni enfatiche del tempo che viviamo muovono da tecnologie che sconvolgono il tradizionale modo di produrre e di lavorare e lo fanno pervasivamente. Dobbiamo parlare, come dire, di agilità in generale nel lavoro, di nuova agilità nel lavoro, di nuova responsabilità nel lavoro. Questo significa mettere in discussione queste nuove tecnologie, questi cambiamenti nei modi di produrre che si fanno più orizzontali e meno verticali, come siete soliti sottolineare, mettono in discussione tutto un impianto di regolazione del lavoro, del rapporto di lavoro, che è stato costruito sulla difesa passiva del contraente debole. Tutto quell'impianto che voleva poi una rigida separazione fra lavoro dipendente e lavoro indipendente, per cui il lavoro dipendente si fondava sulla predeterminazione rigida dell'orario, della postazione, del salario. Tutto questo sta avvenendo meno e soprattutto si sta realizzando la visione di Biagi che immaginava una confusione progressiva tra lavoro dipendente e lavoro indipendente. Perché per un verso il lavoro dipendente si caratterizza sempre più per ampi spazi di autonomia e di responsabilità e viene richiesto di produrre risultati e meriterà di essere remunerato anche in base ai risultati. Ho detto meriterà di essere remunerato in base ai risultati, quanto il lavoro indipendente ci chiederà sempre di più anche l'accesso a tutele che avevamo fino a ieri attribuito soltanto al lavoro dipendente. Questo significa che la regolazione pubblica deve essere quanto più contenuta e quanto più cedevole nei confronti dell'accordo più prossimo tra persone, non tra entità astratte. E cioè immagino che sempre di più noi dovremmo immaginare questa cedevolezza in modo che le parti, a partire dall'accordo individuale che spero non sia un delitto nominare, le parti si adattano reciprocamente in funzione dell'impiego migliore di tecnologie che giorno dopo giorno danno nuove opportunità, le parti si regolano per quanto riguarda il modo di rendere effettivi sostanziali i nuovi diritti nel lavoro che io considero la salute e sicurezza ma con un approccio sostanzialista, non formalista, non fondato sugli adempimenti formali. Il diritto è un diritto alla salute anche nel luogo di lavoro in senso più lato, luogo di prevenzione non solo degli specifici rischi ma anche di patologie che riguardano più in generale la persona perché l'impresa è sempre più comunità. Diritto all'apprendimento continuo dicevamo e alla certificazione delle competenze. Abbiamo sentito prima come dobbiamo leggere le competenze in un modo straordinariamente diverso ma come non adattarci reciprocamente per il mondo. Io credo che da lavoratore oggi vorrei non essere inchiodato dentro un inquadramento del 1973 mi pare quello del contratto dei metalmeccanici ma vorrei, 73 immaginiamo la tecnologia del 73 e la pigrizia di chi prendeva quel librone e lo riproduceva nell'accordo successivo ma io vorrei piuttosto avere l'accesso continuo alle abilità, alle conoscenze, alle competenze ed essere periodicamente certificato nel progresso di abilità che ho realizzato ed essere remunerato tenendo conto di questo mio progresso, di questo dinamismo e in prossimità io vorrei regolare il modo anche di essere tutelato rispetto alle tecnologie, in diritto alla disconnessione perché ci deve essere parliamo pure anche di un nuovo diritto questo che anche altrove è stato considerato. Allora questo significa che l'articolo 8, 8 perché c'è sempre, lo dicevo anche l'altro anno mi pare con voi, un 8 nelle cose del lavoro perché l'articolo 8 è del decreto legge 138 convertito in legge 148 e esso è vivo e lotta insieme a noi anche se ogni tanto non si può dire, si fanno gli accordi che sono consentiti dall'articolo 8 ma non si deve dire che è in base all'articolo 8, non si deve dire perché era Confindustria che aveva paura dell'articolo 8 perché Bonanni e Angeletti ebbero il coraggio di dire che andava bene all'inizio e poi si trovarono isolati. Ora l'articolo 8 insomma è vivo e lotta insieme a noi ed è la chiave, cos'è la legge Macron, cos'è la legge francese se non l'articolo 8 cioè che l'accordo più prossimo e quindi l'accordo aziendale prevale sull'accordo territoriale e soprattutto sul contratto nazionale è la deroga ma la deroga non come un minus, la deroga come possibilità di adattarsi reciprocamente, di adattabilità reciproca. Noi abbiamo a che fare con tecnologie che hanno due caratteristiche rispetto a tutte quelle del passato, velocità e imponderabilità. Allora vogliamo fare leggi che rincorrono la realtà che si evolve così velocemente illudendoci di fissarla, di tipizzarla, di rigidirla o invece vogliamo fare soft laws come consigliava Biaggi allora e di poter rinviare quanto più la regolazione del rapporto alla sede in cui le persone si guardano negli occhi, si capiscono e condividono un destino comune. Non è retorica dire, parlare di un destino comune. No, assolutamente no. Infatti Poletti stamattina diceva si fa un po' fatica a stare dietro a tutti questi cambiamenti. Adesso tra l'altro si parla... Dobbiamo mettere sempre le mutande di latta al movimento dei caduti, questo è... ogni volta pensiamo di irrigidire la realtà nel nostro schema, Giacobino, noi abbiamo la presunzione di fare lo schema e di costringere la realtà entro gli schemi. Ha già detto qualcosa su Confindustria, ma appunto io ho visto Confindustria, è scesa sulle nuove tecnologie un paio di giorni fa su Twitter, lei ormai ha 7000 tweet nel suo mondo. Questa Confindustria ci aiuterà in questo contratto? Come vede la nuova Confindustria? Ieri c'è stato il congresso... Io sono lieto che ieri la Confindustria abbia dato il suo contributo al contratto dei meccanici, abbia deciso di non fare niente. È questo il suo contributo. Non è una battuta, non è una tutta, perché se Confindustria aprisse contemporaneamente il tavolo interconfederale, mi spiegate per fare cosa? Spiazzerebbe Federmeccanica e ammazzerebbe ovviamente quella contrattazione. Io sono convinto oltre a tutto che i leader metalmeccanici delle organizzazioni sindacali di categoria sono più aperti di quanto non sembri e di quanto vincoli confederali anche non li facciano oggi essere aperti. Sono ottimista che quel contratto si farà se nessuno lo disturba, né il legislatore, né Confindustria, né CGL Cisluil. Se lasciamo le parti da sole dialogare e cercare il punto d'incontro, verrà fuori veramente qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo di cui penso avvertiamo, avvertite più di me voi che siete in trincea ogni giorno il bisogno. A proposito di noi, visto che siamo qua tra detti e revori, come vede l'evoluzione del nostro ruolo in questo panorama che abbiamo discusso? L'altro giorno mi ha colpito che, vi dico la verità, negativamente, una figlia di un mio amico che è una creativa di un'azienda, cioè una designer di un'azienda del sistema moda, che ha da poco un figlio che fa un'ora di strada per arrivare perché nella provincia spesso si fanno percorsi, sta molto in macchina purtroppo, è arrivata a 20 minuti in ritardo e sono stati immediatamente segnati e verranno imputati nel recupero perché spesso rimane oltre l'orario di lavoro. Ho pensato che in quel caso, nonostante l'azienda avrebbe teoricamente caratteristiche, diciamo, moderne, se non altro per i prodotti continuamente innovativi che realizza. Quel capo del personale, usiamo il termine tradizionale, non favoriva un rapporto di appartenenza, di condivisione. Conosceva il lavoro agile. E di sicuro non era entrato nell'ordine di idee dell'agilità. Io credo che il vostro compito, come diceva un amico con cui ho condiviso tante battaglie, Maurizio Castro, diceva ho cominciato che erano tutti maschi di mezza età, eterosessuali, bianchi. Adesso trovo di tutto, mi diceva nell'ultimo suo tempo in Electrolux e oggi ancora di più ovviamente questo. Voi sapete meglio di me che non potete più considerare i collaboratori dell'azienda come una massa indeterminata ma che occorre quella adattabilità reciproca che è in uno spirito di coesione ovviamente ma colga tutte le specificità di ciascuna persona, le attitudini e i problemi che ciascuna persona vive. E questa è la sfida ma è anche il passaggio ad una dimensione molto più gratificante di questo lavoro che per lungo tempo è stato anche un lavoro di resistenza. È stato un lavoro di opposizione e invece in questo momento è chiamato ad essere un lavoro fortemente intrecciato con quello della conduzione più complessiva dell'azienda, della gestione della produzione ed è un ruolo propulsivo. Sempre tornando alla piattaforma di Federmeccanica, Federmeccanica ha fatto secondo me un lavoro molto interessante sia quando ha analizzato direttamente i bisogni dei lavoratori non chiedendoli soltanto al sindacato e ha invitato in ciascuna azienda a fare altrettanto che non è un modo di scavalcare il sindacato ma è un modo di sviluppare appartenenza, condivisione, comunità in quell'impresa sollecitando anche evoluzione del sindacato affinché avverde il dovere di rappresentare tutti e insieme ciascuno per aspirazioni e problemi. in effetti ha preparato molto bene. Bene, la ringrazio molto. Io ringrazio voi.